Siamo i primi in Europa, ma non c'è da andarne fieri. I bambini italiani risultano i più obesi del vecchio continente, 100.000 in totale, uno su tre nella fascia d'età compresa tra i 6 e i 9 anni, con una prevalenza dei maschi sulle femmine. La maggior parte è concentrata al sud, in testa la Campania, seguita da Molise, Calabria, Sicilia e Basilicata. Vari i fattori all'origine del fenomeno. Il genitore tende a non riconoscere il bambino che è in sovrappeso e quindi sottostima il problema. Il secondo elemento ha a che fare con il movimento, quindi con la sedentarietà di questi nostri bambini che stanno troppo tempo davanti ai video. E il terzo riguarda l'alimentazione. Spesso hanno alimentazione incongre, fanno poca colazione, mangiano poca frutta e verdura e ci sono parecchie bevande zuccherate. È necessario quindi intervenire il più precocemente possibile, non solo seguendo una dieta opportuna, ma modificando lo stile di vita di tutto il nucleo familiare. Fare più movimento in famiglia, quindi sfruttando anche dei tempi sul fine settimana per vincere la sedentarietà e spegnere il video. Secondo, il fatto di fare una colazione tutti quanti insieme. Terzo, a pranzo e a cena non deve mai mancare una buona dose di frutta e di verdura e dove il bambino rifiuta questi alimenti, lavorarci sopra, giocando e facendolo cucinare lui, in maniera tale che li accetti più facilmente.